Proprio attraverso le sue trasmissioni abbiamo scoperto che anche i ragazzi che sono portatori di autismo, le persone autistiche, hanno una forte componente, una forte causa scatenante alimentare. Ecco vorrei che lei approfondisse questo aspetto che è molto più difficile ma che ci mette in collegamento diretto con il nostro intestino, con il nostro apparato digerente di cui ormai dopo tre puntate incominciamo a scoprire i meccanismi complessi di grandissimo e raffinato laboratorio chimico. La combinazione glutine, lattosio e vaccinazioni e dietro questo trio qua c'è la storia dell'autismo, qua ci sarebbe del materiale incredibile per dei ricercatori che avessero voglia veramente di fare delle cose stupende. Ma guardi che ormai ci sono tanti studi eh dottore, c'è una bibliografia anche in questo libro che ti ho consultato. Si fa fatica e poi anche l'anemia, ma tanto per dire l'anemia mediterranea è praticamente una forma di celiachia, infatti si chiama anemia mediterranea perché praticamente è quasi tutta circoscritta nel bacino del Mediterraneo. E nel bacino del Mediterraneo cosa c'è che ci contraddistingue rispetto alle altre popolazioni? Che siamo dei forti mangiatori, forti mangiatori di cereali con il glutine e che prima veniva tenuta abbastanza a bada, adesso anche questa si sta diffondendo molto, veniva tenuta a bada con la famosa selezione naturale, invece adesso non essendoci più si presenta, poi ci sono sempre le forme latenti di questa anemia mediterranea, ma anche l'anemia stessa, quella da carenza di di ferro, di globuli rossi bassi, carenza di emoglobina, di carenza di ferro, anche la ferritina che può andare alle stelle o la ferritina che va sotto i piedi. Quindi sono tutte delle forme che avrebbero bisogno proprio di centri, che magari basterebbe che anche solamente un centro, un centro per ogni patologia a livello nazionale segue queste patologie singolarmente, vedendo che effetto ha l'alimentazione sulle modificazioni delle varie patologie. Nel giro di due o tre anni si risolverebbero la gran parte, il lupus eritematoso sistemico, il lesa, tremendo come l'artrite reumatoide, ma tutta una serie di patologie. Addirittura la sclerosi multipla, ci sollecitano la linea dalla regia. Sì, ma prima conviene mettere ben giù chiaro dei palettini che la gente sappia che la celiachia non l'assicura andando ad acquistare i prodotti farmaceutici per la celiachia. Anche se l'associazione ha fatto una grande campagna in questo senso e ha perlomeno ottenuto un riconoscimento dallo Stato. Sì, ma le persone se lo fanno in proprio. Tra l'altro per cucinare del riso non ci vuole granché, per cucinare una polenta non ci vuole granché. E ripeto, la polenta che la mangiano le persone di gruppo sanguigno A. Per cucinare quinoa, poi quinoa che è universale, va bene, va benissimo, a parte i bambini sotto i due anni per il resto è di una comodità estrema. Se poi una persona se la tiene sempre la sua discreta quantità già pronta, è già cotta in frigorifero, arriva a casa, la mette sul fornello, ci allunga mezzo bicchiere d'acqua, un filino di sale in più, due minuti di bollitura nel microonde, è già prontissima nel giro di 4-5 minuti. Piero, abbiamo lasciato a parte un attimo la segale, che è in via di grande riscoperta in questo periodo. Sì, la segale. Ne parliamo dopo la pubblicità però.